guardate come sono belle, prugnolo dell'ottunno ormai i porcini ragazzi sono finiti, ormai c'è più poco, adesso si raccoglie queste, sono buonissime tra l'altro, buone sott'olio, buone trifolate, trifolate come i porcini, sono squisite, ottime, guardate che belle, belle proprio anche di crescita, con una spinta eccezionale, veramente belle, e ripeto sono ottime, che meraviglia, avanti pure, stupenda, la sentono cadere le castagne, cade di tutto, veramente, queste sono belle grandi, la mia zanetta è sempre con me ragazzi, belle belle belle, sembrano tanti soldatini, eccezionale, ci vuole un po' perché c'è bagnato, eh sì, che spettacolo, ma sono stati cinghialotti, eh, piccoline, sono rivaltate, uno spettacolo meraviglioso, ce ne sono tantissime, tutte fresche, guardate quanti soldatini, guardate, questo è proprio un bel, un bel cerchio delle streghe, eh sì, guardate che spettacolo, stupenda, veramente belle, grazie a tutti, Grazie a tutti Questo è un spettacolo unico Sembrano seminate Fanno le file Qui ce n'è anche ragazzi File o cerchi delle streghe In questa bella immagine Vi saluto E vi do appuntamento al prossimo video Ciao a tutti